diciamo oggettificata nel senso che è ancora una proprietà, il suo corpo è una proprietà. Sembrano parole forti ma nell'oggettificazione c'è proprio questo, cioè il non riconoscere l'altro come essere singolare ma l'altro come a disposizione. Nella parola oggettificazione c'è appunto l'oggetto, cioè pensiamoci un oggetto non fa paura, un oggetto non può pensare, non può cambiare idea, non se ne può andare, è a disposizione. Oggi sembra che le differenze ora poi anche con gli interventi della dottoressa Dragotto e del dottor Ciccone si è parlato da un punto di vista appunto femminile e da un punto di vista maschile di tutto questo. Le differenze si sono assottigliate nel senso che per quello che riguarda i diritti, i doveri, le possibilità sembrano che si sia raggiunti a un livello almeno in superficie una parità. In realtà la violenza c'è ancora, cambiano le forme e accanto a una violenza così esplicita, una violenza penso agli ultimi casi di donne acidificate, acidificate in volto. Di questi casi noi ne sentiamo parlare in altre culture, in altre nazioni, che noi consideriamo anche con una cultura forse meno umanizzata, per riprendere le parole di Recalcati, meno civilizzata della nostra. Insomma, mi ha fatto molto pensare anche a forme di violenza quasi ancestrali, oserei dire, e poi un tipo di violenza, quindi una violenza molto esplicita, una violenza più sottile, che ci riguarda molto più da vicino, non che la violenza esplicitata sia una violenza lontana, abbiamo visto i casi non sono isolati, potrebbero riguardare la collega, la vicina di casa, l'amica. E quindi una violenza più sottile e condivisa, che ci viene anche mostrata, lo vedremo, anche per quello che riguarda la rappresentazione del femminile e della donna nei media, dalla pubblicità, internet, la televisione. Questa è un'altra che mi aveva molto colpito, dice Michele Serra, che della condizione delle donne può dirsi la stessa precisa cosa che si dice della democrazia e dei diritti umani, che niente è dato una volta per tutte, che ogni cosa va rafforzata e difesa. Pensavamo che dopo tanti anni, anche con l'ondata del femminismo, negli anni 60-70, ormai le donne avessero raggiunto una parità e una libertà. Su questo oggi vorrei fare una riflessione con voi, cioè accanto appunto a questa violenza, che non c'è un ritorno della violenza, che forse negli ultimi anni si è taciuto rispetto alla violenza, come se in qualche modo non si potesse più dire, perché appunto con la civilizzazione nostra, soprattutto in Italia, sembrava un po' di essere andati avanti e invece appunto i casi non sono poi così pochi e così isolati. Una forma appunto di, non solo di discriminazione, ma di violenza sottile è quella che passa appunto attraverso i media. Il corpo delle donne, le donne, come sono rappresentate? Io parlo del corpo delle donne perché nei media in realtà non ci sono, diciamo nella rappresentazione che ne danno i media, non ci sono donne ma ci sono corpi di donne senza donne. Io dico, cioè in cui, diciamo, l'immagine è quella di una donna giovane e bella, ma una donna oggetto, a volte non c'è neanche il viso, c'è direttamente il corpo, parti di corpo di questa donna, perfetti e spesso aiutati chirurgicamente a rappresentare un ideale di donna bambola, bamboleggiante, in cui ci sono pose plastiche, anche i volti, poi lo vedremo, sono immobilizzati in un'unica espressione, c'è l'immobilità, cioè vedremo che è molto diverso da quello di cui parlava la dottoressa Dragotto, della ciclicità. Ora, io ho portato alcune immagini, spero che si vedano bene. Allora, questo è un po' sgranata, ma spero che la vediate lo stesso, l'immobilità di una radio, e poi commentiamo un attimo, io le faccio passare così che le potete vedere, e poi commentiamo un attimo, questa è una rivista, insomma, anche provocatoria, perché è di Cattelan, ma insomma, no? Ci dà già un'idea di come venga rappresentata la donna. Questa è un'altra immagine, questo abbigliamento. ecco, questo è un ristorante, è un ristorante di carne. Sono delle scarpe, non sembrerebbe, io non l'avevo capito, solo perché vedevo la marca, che ho opportunamente oscurato, ma ecco questo, anche è un ristorante di pesce, ovviamente, si capisce. E questo invece è lo sport fatto dalle donne per la gazzetta dello sport. Ecco, insomma, pubblicità, a volte non si capisce neanche cosa pubblicizzano, il corpo delle donne è in primo piano, e è, insomma, c'è un'esplicitazione, assolutamente, non c'è un'allusione alla sessualità, ma c'è appunto una sessualità reticata, una sessualità esplicita. Possiamo anche parlare di immagini che rimandano alla pornografia, se per pornografia intendiamo proprio una rappresentazione di immagini appunto sessuali. Queste non sono appunto immagini erotiche, se vogliamo, no? In cui, in qualche modo, nell'erotismo c'è sempre il piacere, c'è un vissuto emotivo, non si può prescindere da quello, ma c'è un passaggio diretto appunto a un qualcosa di assolutamente scoperto, in cui non c'è, non ci sono, non ci sono allusioni. e appunto nella logica pornografica c'è un'oggettificazione dell'altro e quindi in questo caso della donna. Sono immagini denigratorie, svalutanti, sono immagini appunto che non danno un'idea di rispetto, no? Per parlare, prima parlavamo appunto del rispetto. c'è tutto un immaginario, l'immaginario che c'è dietro appunto è quello di una donna giovane e bella, di una donna oggetto, di una donna bambola. Questo è un po', diciamo, l'immaginario che sottende alla modalità in cui la televisione ci parla e ci fa vedere le donne. una cosa che, c'è un documentario molto interessante che nel 2009 ha fatto una giornalista, Lorella Zanardo, che si chiama Il corpo delle donne, in cui lei parla proprio di questo e spiega, fa un'analisi appunto di come è rappresentata la donna nei media e appunto riguardo a questo, lei a un certo punto dice quello che mi ha colpito di tutte queste donne, anche che lavorano in televisione, è che nessuna si ribella in qualche modo. A me è venuto da pensare che è proprio questo il punto, che questa è l'immagine, spesso queste pubblicità sono per donne. Pensiamo a questa pubblicità delle scarpe, non riguarda gli uomini. Sì, se è un cartone pubblicitario, gli uomini si girano a guardarle, ma le compriamo noi, poi quelle scarpe. Quindi è un bombardamento anche verso di noi, verso la donna stessa, a dire questa è l'immagine che ti rappresenta. Ma mi viene da dire, questo siamo. Prima la dottoressa Dragotto parlava del maschile, del femminile, della possibilità di prendere dentro di noi di nuovo quel femminile, di non negarlo. Io pensavo un po' alla tipologia di modello del femminile. In questa, questa che io chiamo comunque violenza, perché c'è un assoggettamento al godimento dell'altro in queste immagini, quindi in questo corpo, che è comunque in ostaggio, e quindi una violenza anche in questo, pensavo a questa normalizzazione dell'abnorme, una normalizzazione della violenza. C'è un esempio, diciamo, che rende di un esperimento che è stato fatto da alcuni scienziati sugli animali, su dei cani, per appunto valutare l'istinto di fuga. Bene, lo racconto in due parole. Dentro una gabbia, diciamo, fu stato lasciato entrare questo cane e la gabbia fu chiusa. Stava sdraiato sulla parte destra della gabbia e proprio sulla parte destra fu iniziata una scossa. Il cane prese una scossa. A quel punto imparò a mettersi dall'altra parte, ma anche sulla parte sinistra venne attivata la scossa. A quel punto il cane si mosse di nuovo ma l'intera gabbia fu, diciamo, bifuazionata la corrente. A quel punto il cane andò in confusione, ci fu il panico, si agitò, ma poi rimase sdraiato a prendere le scosse. Però l'esperimento non era finito. A quel punto fu aperta la gabbia e gli scienziati si aspettavano che in qualche modo il cane uscisse immediatamente. Invece la sorpresa fu che rimase lì. Rimase lì a prenderle le scosse. Da lì dedussero che una creatura, a questo punto anche, possiamo dire, anche gli esseri umani quando sono, quando subiscono la violenza, la subiscono per tanto tempo, si adattano a quella violenza. E l'istinto di fuga, l'istinto autoprotettivo è come se venisse meno, si placasse. C'è quindi un adattamento. Io, leggendolo, ho pensato a quello che è successo a noi donne. Cioè che per tanti secoli siamo stati abituati a subire comunque violenza, ma voglio dire a subire, diciamo, a essere in ostaggio. Essere in ostaggio non significa soltanto essere rinchiuse fisicamente. essere in ostaggio è anche un qualcosa che si sente dentro. Le catene spesso sono interne. Cioè il non potersi esprimere, il non poter appunto il non poter agire, il non poter essere se stesse. Ma se questo è stato fatto per tantissimo tempo, parliamo di secoli, è come se in qualche modo in qualche modo si fosse tramandato di generazione in generazione ed è un qualcosa che si tramanda di madre in figlia. Cioè l'impossibilità di accedere a appunto a un qualcosa dentro di noi che riguardi appunto quell'istinto autoprotettivo. E ritornando all'immagine del cagnolino che è rimasto lì, penso alla resistenza. Cioè quello che le donne fanno prima si parlava della fragilità io pensavo anche a che ci considerano il sesso debole ma noi donne resistiamo. Noi donne se c'è una cosa che siamo molto bravi a fare è resistere al dolore. Mi viene in mente il dolore del parto ma quella è soltanto l'esplicitazione più alta della nostra resistenza ed è una grandissima forza e noi dentro di noi lo sappiamo di essere forti ma la nostra forza è proprio in questa resistenza in questo resistere in questo sopportare e mi viene da pensare che questa resistenza si compenetra molto bene con la con la violenza è come se fossero due pezzi perfetti del puzzle che si compenetrano perfettamente. appunto mi viene anche da pensare alla sindrome di Stoccolma pensando al corpo in ostaggio dopo tanto tempo in cui una persona è appunto in casi insomma di appunto di ostaggi o di rapimenti appunto in qualche modo chi viene rapito chi viene tenuto in ostaggio si identifica con quell'aggressore con il suo carceriere con l'aguzzino e ne prende su di sé parlando prima di modelli è come se avessimo come nella sindrome di Stoccolma introiettato qualcosa dei nostri aguzzini del modello maschile ma di quel modello maschile stereotipato di cui si parlava prima parlavamo di stereotipi perché di quello parliamo noi non andiamo a parlare di qualcosa poi di individuale che ha a che fare con la complessità delle storie individuali che sono uniche ma parlando di generalizzando parlando di stereotipi con un modello maschile quindi ci siamo abbiamo introiettato ci siamo identificati o identificate o direttamente conformate perché è un po' no? su questo piano che vi vorrei che vorrei portare oggi una riflessione appunto sull'introiezione del modello maschile e appunto sulla conformizzazione del modello se ci pensiamo oggi o c'è un modello che appunto è quello della donna bambola che non può cambiare che non può appunto tornare alla ciclicità ma che rimane immobile in un'eterna giovinezza e un modello appunto quindi di donna oggetto oppure di un modello di donna completamente identificato con il maschile penso alle donne di successo in cui per fare successo per essere comunque per arrivare devi diventare un uomo perdendo sempre da qualche parte una parte di sé che sia della femminilità che sia semplicemente di se stesse perché per prendere tutto quanto adesso ci considerano multitasking io quando ho sentito questo termine ho pensato al robot da cucina ho detto adesso siamo pure multitasking ho detto no non mi dava l'idea di un qualcosa di di efficiente mi dava un po' l'idea di oddio quanti braccia ho per fare una sorta di idea calì che fa tutto perché le donne fanno tutto le donne lavorano le donne oggi appunto con la parità possono aspiare anche successo personale ma poi tornano a casa e sono anche madri mogli amanti tutto e tutto questo ci fa faticare ancora di più resistere ancora di più e parlando appunto se no rischio di parlare un po' troppo però vi voglio puntare ancora un'altra riflessione rispetto a questa introiezione del modello maschile e di una conformizzazione del modello della violenza che a volte donne riescono anche a fare su se stesse penso un po' alla chirurgia plastica invasiva qui si sottopongono ormai non soltanto le showgirl le donne dello spettacolo ma anche le donne comuni proprio per conformizzarsi a quello che si pensa essere lo sguardo maschile perché se c'è una cosa che noi donne diciamo in questo diciamo siamo bravi a fare è proprio cercare la conferma sempre e comunque dall'uomo da quel maschile cioè ricordiamoci che nel nostro immaginario siamo pur sempre Eva che è nata da una costola da Damo siamo mancanti cioè ripenso anche a una psicanalisi di ormai un secolo fa che una battuta adesso lo dico si diceva che appunto la bambina a un certo punto scopriva di non avere un pene e che per questo veniva fuori l'invidia del pene ma pensiamo a cosa significa questo a che cosa poi quindi nasciamo con una mancanza e quindi la conferma da parte del maschile è importantissima quello che appunto stupisce sempre come tante donne che appunto vivono delle violenze poi faticano a tirarsene fuori ora questa è una cosa che leggo al volo così poi concludo un attimo è una ragazza giordana un dibattito l'ha riportato la giornalista Lorela Zanardo dice che la nostra cultura soffoca tutto quanto è femminile nascondendo il corpo della donna e togliendoci una parte importante di noi questa voglia di soffocare tutto ciò che rappresenta il femminile arriva addirittura a velarci il viso a nasconderci l'identità e a farci sparire trasformandoci in un'ombra nera però non è libertà neanche quella che vivete oggi in Italia a volte penso che velarsi il volto e fare un lifting siano la stessa cosa l'hanno chiamato un burca di carne quanto per essere così sicure per conformarci a quel modello ci nascondiamo se ci pensiamo la chirurgia a un certo punto blocca in unica espressione il viso di noi donne però ci fa sentire più sicure questa è un'intervista che Nina Moritz ha rilasciato e dice appunto prometto che concludo in cui a un certo punto ha capito che per lei la chirurgia era una forma di aiuto per combattere la sua insicurezza poi ha capito che forse anche quello non non le bastava più e che forse l'insicurezza stava da un'altra parte e che era proprio quel bisogno di avere una conferma da parte questa ora ve la lascio qua ecco quindi anche nella allora qui ci sono altre ok e questa è un'ultima per lasciarvi appunto sulla autenticità sicuramente per poter essere autentici e come dice Whitmont per rendere omaggio ai propri desideri e ai bisogni emotivi bisogna essere molto sicuri ma per avere questa sicurezza in qualche modo bisogna arrivarsi a dire che ci si basta che non si è poi così incompleti e quindi poi la relazione può passare anche alla condivisione alla reciprocità quindi non più un'estrema compensazione di una mancanza che ci fa arrivare anche a sostenere a sopportare relazioni violente relazioni che fanno stare male e e su questo vabbè concludo perché altrimenti vi ringrazio grazie 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 alla dottoressa Bagnera che non volevamo assolutamente interrompere però purtroppo dobbiamo liberare la sala hai fatto benissimo però è stato molto interessante il nostro ultimo relatore il dottor Massimo Baroni psicologo clinico e di comunità nonché parlamentare eletto nella lista del movimento 5 stelle il suo intervento ha come titolo i luoghi di precipitazione fantasmatica allora come spesso innanzitutto salve a tutti riconosco qui dentro molte facce amiche mi viene una battuta abbastanza facile nel senso di dire avrò sempre il dubbio se sono venuti per amicizia o per supposta competenza insomma e questo magari me lo diranno loro poi alla fine dell'intervento visto che giustamente grazia che tra l'altro ci conosciamo stiamo cercando di capire dove ci siamo conosciuti e ha finito con ha finito sollevando il problema dell'autenticità non si sente quindi perché ok ero troppo lontano c'era e quindi ha finito con un discorso importante estremamente importante io ho una diciamo sono diventato uomo ritengo di essere diventato uomo e come uomo ritengo di avere acquisito quella caratteristica secondo me femminile che è un concetto molto vicino a quanti a quanti di chi è presente in sala conosce la decrescita felice perché è il concetto della resilienza e la resilienza è la capacità all'interno di un contesto che adesso è diventato un contesto sistemico sociale cittadino di convivenza civica e nel momento in cui si dovesse ipotizziamo dovesse arrivare uno shock la capacità di ricostituire e ristabilire l'equilibrio che avevamo in precedenza è inutile che mi dilungo tantissimo perché intuitivamente si capisce subito che questa è una delle caratteristiche che a livello di immaginario collettivo a livello psicologico noi attribuiamo al lato femminile di ognuno di noi oltre a ristabilire un equilibrio che possiamo immaginare come ottimale io devo aprire il discorso su alcune puntualizzazioni proprio perché parliamo di autenticità ognuno di noi parte da alcuni assunti ha una sua storia e ogni giorno se la racconta si racconta una storia finisce la giornata e ognuno la famosa metafora di guardarsi allo specchio nel momento in cui noi ci guardiamo allo specchio ci raccontiamo una storia nel migliore dei casi più narrativi si raccontano una storia un po' più lunga di solito c'è sempre l'idea che un maschio non abbia tempo per raccontare storie a fine giornata perché è stato troppo impegnato a fare quindi la capacità di rappresentazione è anch'essa una delle nostre caratteristiche che sono relative alla nostra femminilità cioè ed è qui che entriamo in qui voglio mettere un attimo un punto perché lo riprendiamo dopo questa è una tecnica in letteratura l'ho imparato da donne scrittrici si chiama metonimia mettiamo un attimo un punto lo riprenderemo dopo è un pochino difficile vorrei prendere un attimo il come si chiama il gelato quando sono arrivato qua in maniera assolutamente leggera insomma forse alcuni l'avranno notato io ho commesso di fatto una una violenza nel mio mondo per come me la racconto io io sono arrivato in ritardo sono arrivato in ritardo c'era già un discorso una narrazione che stava che stava avvenendo e quindi io devo intervenire all'interno di un contesto in cui c'erano delle persone che stavano parlando stavano dialogando con voi e io di fatto adesso sto parlando senza sapere la mia collega qui che cosa ha detto questo da un certo punto di vista a livello di rispetto questa è una violenza perché se noi parliamo a livello gruppale se noi parliamo a livello di cercare di co-costruire un un percorso un'immagine che possa avere lo stesso valore per tutti io non posso fare una cosa di questo genere perché altrimenti do per scontato una cultura cioè il fatto che immagino che la mia collega abbia detto alcune cose mentre invece non posso saperlo quindi quando noi parliamo di violenza noi parliamo di un concetto di violenza che noi possiamo descrivere a livello empirico l'idea che noi ci facciamo di fatto è il motivo per cui noi siamo qui perché siamo stati attirati da un archetipo l'idea che la donna subisce una violenza è un'idea antichissima cioè solo recentemente noi siamo riusciti ad arrivare ad una coscienza tale per cui noi possiamo pensare a un femminile diverso questa è quello che noi abbiamo questa è una delle nostre forze la cultura cioè l'idea che noi possiamo riflettere su quello che facciamo quindi ognuno di noi che lo sappia o meno siccome io mi sono autoattribuito un femminile una scoperta è comunque portatore di una cultura violenta le sovrastrutture quelle che ci piacciono quelle che non ci piacciono quelle utili quelle inutili sono qualche cosa che in alcuni momenti ci proteggono e in altri momenti invece ci ci rendono inautentici quindi io credo che il problema nel momento in cui parliamo di culture e di culture violente è che non abbiamo un'immagine un'idea di percorso cioè se noi ci fermiamo ai simboli se noi ci fermiamo alle descrizioni perdiamo di vista l'idea che noi stiamo comunque camminando all'interno di un percorso è la nostra vita alcuni di noi avranno la fortuna di reincarnarsi altri invece non ci credono quindi per punizione non lo faranno e sta di fatto che sempre a livello empirico è provato che noi abbiamo almeno una vita quindi possiamo fare possiamo cercare di guardare possiamo cercare di guardare lontano nel momento in cui proviamo a guardare lontano dobbiamo avere necessariamente una visione una visione di ciò che ci piace di ciò che non ci piace perché noi conosciamo molte culture e possiamo conoscere una cultura faccio un esempio politico perché abbiamo fatto la cultura del PDL per esempio una cultura che è diversa da quella del Movimento 5 Stelle perché noi presupponiamo che il Movimento 5 Stelle nel momento in cui ti comporti male qualcuno riferisca il fatto che tu ti stai comportando male nel PDL invece è chiara la cultura che fra di loro si devono difendere nel momento della difficoltà dello stress anche quando rubano perché hanno magari è stato un momento di difficoltà e fra di loro fanno gruppo si difendono ora io non sto ovviamente magari si evince da che tipo di cultura vengo io però è molto importante capire che ci sono delle differenze e noi abbiamo delle culture nel momento in cui cominciamo a immaginare un nostro percorso di vita cominciamo a immaginare di escludere alcune culture perché significa che ci vediamo all'interno di un percorso di un cammino tutto questo che cosa ha a che fare con la violenza è un'interno di un'interno di un'interno di un percorso